Buon pomeriggio a tutti da parte di Timmy John Forex e dal sottoscritto Francesco Cerullo. Anche oggi una piccola analisi flash su un titolo italiano. Parliamo di Finmeccanica. Perché parlo di Finmeccanica? Beh, lo vediamo tra poco, qua su, proprio sulle ultime candele, perché si è venuto a disegnare un pattern tecnico abbastanza importante. Vediamo di fare un piccolo sunto. Nel 2016, praticamente Finmeccanica, che cosa ha fatto? Era partita abbastanza male, vedete qua, al primo mese, fino a metà febbraio, le quotazioni erano scese tantissimo, c'era stato un rimbalzo che si era fermato in area 11,40 e poi erano stati testati i nuovi minimi, andando nuovamente sotto appunto i minimi precedenti in area 8,50. Da lì abbiamo visto un buon recupero da giugno, praticamente, che ha portato ovviamente, come vedete dal grafico, ad un rialzo piuttosto consistente delle quotazioni. Io ho voluto tracciare qua una trendline in blu, la vedete, che sottolinea come le quotazioni appunto si siano mosse a rialzo, e quindi direi che questo è un riferimento dinamico piuttosto importante da tenere in considerazione anche nel futuro. Dove si sta affermando però il titolo? Vedete qua, 13,65 e 13,90 è una fascia dei massimi del 2015, quindi attenzione perché come vedete i prezzi sono proprio arrivati lì e adesso stanno un attimino lateralizzando. Ma su che cosa mi voglio concentrare? Ecco, vedete il grafico non ancora aggiornato ovviamente alla seduta odierna. Vi voglio far vedere che le ultime tre candele sono un boomer. Un boomer è una figura tecnica abbastanza importante, sottende compressione di volatilità, e quindi a che cosa dobbiamo fare attenzione? Ai massimi e minimi dell'ultima candela. Quindi come vedete 13,49 e 13,31 sono dei livelli da tenere in considerazione e che dovevano essere tenuti in considerazione quest'oggi. Che cosa mi aspetto quindi? Beh, ovviamente un possibile rialzo dovrà sicuramente andare al test appunto di questa fascia di resistenza, quindi che vi ho appena citato, 13,65, scusate, 13,90. Ovviamente il break soprattutto di 13,90 porterebbe veramente nuova positività con 14 il primo target, ma ovviamente una dinamica che poi andrebbe seguita nel futuro. Mentre per quanto riguarda uno scenario un pochino più ribassista, ovviamente 13,31 è il primo alert, ma guarderei questi minimi di brevissimo periodo in area 13,15. Un close al di sotto di tale livello secondo me porterebbe un pochino di negatività con i primi target ribassisti individuabili fra 12,68 e questo livello qua, ve lo faccio vedere così in diretta, dei 13,50 circa. Ecco, andiamo ovviamente a vedere in diretta invece che cosa sta facendo il titolo grazie sempre alla piattaforma di investing.com, come sempre che ci dà supporto. Questo è un grafico orario. Vedete come nelle ultime sedute i prezzi stiano, come stiano appunto i prezzi lateralizzando. Quindi ovviamente qua sul grafico orario che cosa vi verrebbe da dire? Vi verrebbe da dire attenzione a un allungo sopra i 13,60 e debolezza sotto, sì, sotto 13,15 anche qua. Quindi 13,60, 13,15 sul grafico orario sono il mio focus per le prossime sedute. Attenzione ovviamente a questi livelli perché in caso di fuoriuscita da questa lateralità ci potrebbe essere un movimento direzionale. Mi sono dilungato anche troppo. Vi ringrazio nuovamente e come sempre per la vostra attenzione. Vi rimando ai prossimi appuntamenti in compagnia mia e ovviamente in compagnia del team Vision Forex. Ciao a tutti e alla prossima!